Quest'oggi proviamo una di quelle follie, super mega follie, esattamente, soltanto noi possiamo fare cose del genere Allora, vogliamo tappare completamente il cratere di Dusty Divot, siamo soltanto in undici Siamo ben organizzati perché ognuno andrà in certe zone per farmare legna, quindi comunque almeno c'è una bella organizzazione Siamo un gruppo di consolini super organizzati Esatto, ovviamente è un match privato e l'osso obiettivo è tappare completamente il cratere Se le zone ci danno un po' di manforte, secondo me ce la facciamo Se le zone chiudono a Junk Jackson non ce la faremo mai Assolutamente no E ovviamente già la seconda volta che proviamo perché la prima volta già la prima zona era fuori Ah poi dico io, è bello al centro, cavolo, chiudi dentro Sì, è al centro perfetto quasi Chiudi dentro E invece no, comunque noi dobbiamo andare all'Andeletali perché ci siamo appunto divisi un po' di zone vicine al cratere Ci formiamo un sacco di legna, formiamo un pochettino anche magari qualche mattone e un po' di ferro E poi corriamo dritti lì e vediamo se ci riusciamo E' una di quelle imprese davvero difficili però se vi piacciono da vedere lasciate un botto di likes E soprattutto iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina Così quando facciamo di queste cose lo sapete Allora Fre, come siamo organizzati? Tu ve la foresta in fondo a destra? Sì, perché ormai sono qua, sto cadendo da questa parte quindi mi conviene fare quella Ok, allora io come faccio? Perché se mi vado un po' male Sai cosa faccio? Start lo farm e dalle pietre Ok Hai pensato la stessa cosa, no? No, io volevo andare qui da primi due ceste, sai com'è? Perché dopo che finiamo il cratere dobbiamo poi fightare Però Steph, cosa fighti? Con la legna? No, ma è più importante riuscire a tappare il cratere Pensi sempre solo a combattere, sei una persona davvero brutta Eh, sei preparati nella vita, Steph Ho capito, ma l'obiettivo importante è tappare Pure il shield, ci vado full shield di cattiveria, capito? Va bene Lasciamola perdere, ragazzi Noi pensiamo a farmare che qua il cratere non si tappa da solo E siamo davvero in pochi per riuscirci Allora, ok, sono già riuscito a farmi 200 mattoni, non è male questa cosa Perché io, Steph? Sì, fai 30, quelli che ho trovato nella cesta Almeno fai silenzio, fai più bella figura Non è vero? Sì Allora poi ti voglio vedere quando dovrai combattere che non hai niente Meglio morto Aspetta che mancano 5 secondi, c'è il momento importante Ti prego Stai facendo la suspense Ok, è dentro, è dentro Ok, perfetto, continuiamo Sì, allora, veloci però, secondo me dobbiamo muoverci, eh Perché è dentro, ma la seconda zona è probabile che non lo sia Ok Quindi, veloci Mi sto muovendo, mi sto muovendo Io ho fatto 400 di mattoni Ok Così adesso faccio 999 di legna e parto Non male Non ho armi, eh Te lo dico Bravo Ma vai al volo in una casetta e te le prendi No, no, no Al volo lasciate la voce Non faremo in tempo Dobbiamo tappare Sì che facciamo in tempo Dobbiamo tappare tutto C'è una cesta anche qui dentro il boschetto Ok, sì, sì, è normale Messe di sci bianco, niente di che Io vado alla foresta Dai, passo al volo a prendermi, ma proprio una sola arma E poi corro ad asti Anche tu pronta, eh Quanto sei? 300, 400 Stai andando lentina Non è vero Non prendere anche le munizioni, ti ho vista Non rompere Io l'ammazzo Io ti ho detto che non voglio morire subito nel fight Stai zitto C'è un'arma Cioè, cavolo Sto perdendo del tempo e manco c'è La foresta è bella fitta, eh Ce n'è tanta di legna da fare Lo so Sono a 500, quindi dai Il problema è il tempo Per farla Perché dobbiamo praticamente già andare Lo so, eh Però ci vuole un po' di tempo Se il beronino non è che li butti giù In frettissima Ok, allora Ho scillini Ho shield E ho un M16 Questo è l'unica cosa che io avrò per fare col fight Non ho neanche un fucile a pompa Adesso 999 999 di legna E si va al cratere Ok Ok Veloce Ok, sì Sì, sì, sì Avvisami quando sei pronta Tu, così Almeno so Quanto tempo ancora Eh, un pochino Mi manca Ok, c'è un po' di ferro magari da formare Un po' di pietre Lì in zona Non credo, eh Non sto vedendo così tanta pietra Così tante altre cose Perché se riusciamo ad avere Nel mini cratere che c'è qui vicino A fare un po' di pietra Credo No, mi sa che nel cratere ti dà ferro Ah, è vero Eh, però forse li hanno tolti Lo sai, perché con gli aggiornamenti Li stanno togliendo i meteoriti in giro Anche se li ho visti dentro un camion Forse si possono ancora prendere Sì, forse si possono ancora prendere Non lo so, dai, vabbè Sto finendo Allora, io sono a 400 di legna E 500 di mattoni Quindi ho un totale di 900 Io sono quasi arrivata a 999 Bravissima Certo che un lama Sarebbe davvero ottimo Eh, sarebbe epico Chissà se qualcuno l'ha trovato Su qualche consolina Speriamo di sì Speriamo che qualche consolina Sia più fortunato di noi Ok, sto radendo al suolo Io sono quasi Dai, ci sono vicino Fatto, fatto, fatto Appena sei pronta Inizia a avvicinarti verso di me Fatto, fatto, fatto Arrivo Dobbiamo assolutamente andare Sicuramente qualche consolina È già lì che sta già billando Sicuro, sicuro Ok, sono a 600 Dai, io sono andato alla grande Sono già a 1100 di materiali in totale Ok Sono uno dei migliori Secondo me di farmere Sto prendendo i pallini Manco fossero kill Io ho trovato un M16 verde Per farmare per la cesta Eh, beh Ancora non fare, muoviti Dai, c'era una cesta al volo Dobbiamo andare in zona Che noioso Muoviti Stai venendo? Sì Stai correndo? Sì Corri Quando morirai Mi dirai Fere, avevi ragione Avrei dovuto luttare a un bel fucile Quando vedrai il cratere finito Super mega figo Direi Stef, avevi ragione È la cosa più importante Ma quello lo vedi lo stesso No, ma che ne sai Magari non facciamo in tempo Guarda che grandissimo Eh, lo so Eh, allora Non rompere Ecco Ok Andiamo, dai Andiamo, andiamo, andiamo Apure? Con che coraggio Corri, Stef Veloce Vedi, sei ancora qui fermo A fare legna Beh, io ho fatto 999 E 536 Tu hai 30 e 30 Va bene così È il prezzo per poter fightare dopo, Stef Sta chiudendo la prima zona Ok Speriamo sia dentro Speriamo No, vabbè Tanto ci metterà ancora un bel po' Eh, lo so Uh, fucile a pompa Questo lo prendo E ce n'è uno tattico Uh, bello Bianco, scommetto Sì Sì, vabbè Meglio di nulla Esatto Accontentati Ok Così io sono a posto per combattere 15 colpi 15 colpi Difficilissimo Non vedo nessuno Dove eri qualcuno? No Dove sono i consolini? Ci hanno abbandonato No Dove ne possiamo? È impossibile E comunque non me lo ricordavo così grande No, è molto Forse è più grande del lago Non lo so Ah no, sì, vedo consolini È totalmente l'altra parte Che stanno billando Ok, sì Ok Almeno qualcuno è all'opera Allora Iniziamo anche noi? Sì, sì, sì Io parto Velocissima Anche billare deve essere velocissima Io faccio 3 a 3 Ok Mi sembra il modo per fare più in fretta possibile Ok Ok Sto cercando anche di capire un pochettino Allora Considerando che sono Neanche al centro E mi è costato 400 È tosta, eh Cavolo se è tosta È molto grande Sto cratere, Steph Lo so Cioè io non lo so se ce la faremo, eh Non per essere pessimista Però Io sto facendo tutto il lato qua Ok E ce ne vuole Vero Ce ne vuole Vero Lo so Però fa già un bel effetto Se ti giri dalla mia parte Guarda che ho già fatto tutto questo lato qua Non è male Però Eh la vedo tosta Vero Ma anche perché dove sono finiti i consolini? Ma non lo so dove sono finiti Mi sa che hanno preso troppo seriamente il farm Eh sì Evidentemente sì Però Cavolo Vabbè Allora io arrivo fino all'altra parte Ok Sono sul carrello Ma che cosa stanno facendo? Ma non lo so Ok Allora Facciamo così Facciamo così 200 Quindi Almeno fin qua ce la faccio Almeno fin qua È difficilissimo Steph Ce la faccio Io sono a 200 E cioè non siamo neanche vicini a coprirlo tutto Ma neanche alla lontana Fere Ti hai trovato Il carrello l'ha portato a qualche consolino Ok Ci sta Allora Però Steph qui ci dobbiamo impegnare Fere io ho finito i materiali Anche io che faccio Non vado a prendere altri Sì 1500 finito Finito pure io Che te devo dire Però qua stanno facendo un ottimo lavoro Ok dai Adesso piano piano secondo me arriveranno E lo fanno Perché probabilmente qualcuno si è perso a formare un pochettino di più Ma secondo me adesso arrivano Su Esatto No vabbè ma infatti se vedi all'opera adesso siamo almeno in 6 Forse anche un pochettino di più E infatti si sta iniziando a vedere comunque buona parte del cratere Ah fuori dalla zona Davvero? Sì Dobbiamo essere veloci Però di pochino eh Di pochino Non è male Non è male perché Possiamo resistere un po' Abbiamo circa 3 minuti e 30 Ok C'è da dire che se fossimo stati dentro di nuovo Sarebbe stato più semplice Ovviamente Però Non lo è purtroppo Fortuna dove sei? Molto lontana da Steph e Fere Assolutamente Un lama No eh? Sarebbe bello Tipo qua vicino No mai Sono soletto Niente Non sia mai Un po' di fortuna per noi Fammi vedere da quel cratere come sta andando Sta andando bene no? No Steph Malissimo Cercavo di stare positivo Mi sa Cioè sinceramente non penso che riusciremo a completarlo tutto eh Non lo so Io continuo a crederci C'è guarda che ci saranno consolini che in questo momento sono arrivati Con due Cioè con duemila di mazze Steph Allontanati Guardalo dal tetto di quella casa Eh È ancora tantissimo Guarda che bella figura che fa Scherzi? Ma io lo pesto Allora vado a faremi questo Parla quella che pensava alle armi Capito? Questo boschettino qua Che qua è pieno di Cioè non è proprio un bosco Però è pieno di alberoni Quindi dovrei riempirmi nuovamente di legno Assolutamente sì Ok Allora io mi sono rifatto altri duecento Non è male Per fortuna che comunque a differenza del lago Il cratere ha molti più posti Sì Con tanta legna Però sai il lago per farlo eravamo tipo in ottanta Eh lo so Questa volta mi sa siamo stati un po' troppo spavaldi Fiduciosi esatto Sì 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 Così la vedo grigia Però ce la tentiamo Ce la tentiamo Ormai siamo qua E noi ce la tentiamo Allora questi pagano un sacco di legna Non ci avevo mai fatto caso Guarda quanta legna ci facciamo Vai vai distruggi tutto Steph Oh yes Allora 50 secondi E inizia a chiudere seriamente la zona Quindi abbiamo davvero poco tempo Infatti anche tu non ti allontanare troppo Preferisco che billi La legna che stai farmando Piuttosto che non è troppo lontano E non farei niente in tempo No no non sono troppo lontana Infatti non mi voglio allontanare più di così Il problema è che non basta Con me non basta Va bene Steph va bene ma non basta Allora Andiamo in casa Bene vai avvicinati avvicinati Andiamo a billare Sì mi sto avvicinando Andiamo a billare Perché la zona tanto 20 secondi chiude E noi avremo circa adesso da ora Altri due minuti Io ho fatto altri 400 di legna Non è male Io ho altri Quasi 600 Quasi 600 Cioè È bello No bello è bello certo Guarda Lo metto in dubbio Metà Sì Vero? Una parte Metà Secondo me è metà al momento Però li vedo ancora che costruiscono alla grande Quindi non mi vorrei illudere Ma secondo me possiamo fare ancora parecchio Ok vado al centro Anche io inizio a costruire il più possibile Ok si deve essere anche veloce Infatti bisogna essere veloci in tutto e per tutto Purtroppo il personaggio non è che vola così tanto Eh oddio però dai Eh Cioè buona parte è stata fatta Vedi Lei era così poco fiduciosa No ma non ce la facciamo C'è qualcuno che vola con Jetpack No ma è impossibile Ma cosa dici Stef Non ce la faremo mai Guardate qua Ditemi un po' Cioè dov'è il cratere boffere? Non lo so L'avranno tolto con l'ultimo aggiornamento Ah no sono i consolini Ma stai zitto e smettere a dire Stef è serie Dai Muoviti e costruisci Eh ho finito tutto io Ah ok Allora vedo tutti che stanno ancora costruendo Quindi io sinceramente non sparo Rimango qua nella zona E mi godo fino all'ultimo momento Per vedere quanto riusciamo a fare Sì manca una parte Circa metà secondo me siamo riusciti a fare Forse anche un po' più della metà Un po' più della metà Secondo me siamo almeno al 60% Esatto Cioè abbiamo fatto un ottimo lavoro Dai ci sta Adesso che la zona si allontana un altro po' Dovremmo vedere ancora meglio Vediamo un pochettino Ok E Ho quasi finito i materiali Fede mi sa che dobbiamo andare Vai andiamo dentro zona Ci sarà una guerra finale E la morte Aspetta no li voglio finire tutti Andiamo a forza Fina l'ultimo materiale Stef Non rompere Prima Vi devo avere l'onore Ok fatto finiti Prima era sparare E adesso così Comunque dai 60-65% Completato Davvero manca più di metà Devo dire che la parte coperta Comunque è davvero bella Davvero davvero bella Cioè fa un bell'effetto Un po' come il lago Sì Il discorso è che tu è così in alto Chi è che ha costruito così in alto? Due slurp Due slurp Questi vedi Stef Sono materiali sprecati Non criticare Muoviti Sprecati questi Due slurp Io credo che dovrò foietare A me non ci entro dentro la zona Perché? Mori prima? Eh forse sì Per quello ti dicevo Vieni Vediamo Mi sono tirato uno slurp Ti faccio tutti i discorsi raga Eh non rompere Sto per uccidere quello vicino a me Così almeno un po' di fight l'ho fatto Ma è morto Muoio anch'io Stef Addio Aiuto Eh dai Dai un po' lo slurp resisti No Ero lì vicino Quello a fianco a te è morto sì? Sì Stef ce la fai Resta mi Riesco a entrare C'è gente che spara Eh lo so è ovvio Non riesco a entrare Vieni Sicura? Sì Sai che non ho niente legna vero? Aspetta faccio un po' di legna E mi arrivo E mi lasci qui Eh se no come paro? Eh vieni Arrivo Sì Siamo cinque vivi Cerco di salire Eccomi Eccomi Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta E tu che mi critichi Stef E tu che mi critichi Spiegami a che cosa serve Adesso avere le armi Che tu tanto hai fermato Ho uno slurp e uno shieldino Va benissimo Ti basta così No guarda che lo shield ti rimane Ah vabbè Non sa mai nulla Vabbè lo slurp per la vita E lo shieldino Ah non me lo posso tirare Perché la vita così va bene Lo vuoi tu Che cosa? No ce l'hai anche tu No sono a posto io Pronta? Sì Qua c'era qualcuno Magari sono schiattati E abbiamo delle bende da recuperare Ehi Ok Non sparate? Ok Io li ho sparati questi Che li sono arrabbiati Chiunque si siano Sono molto arrabbiati con noi Ovviamente Ok Allora E qualcuno è stato Knockato adesso dalla zona Come ha fatto? Quante cure aveva? Eh forse anche qualcuno Che comunque è rimasto Fino all'ultimo Curandosi pur di costruire Bisogna valutare anche quello Hai ragione Ma dove sono finiti? Eh beh siamo soltanto Due contro due Ah beh sì Quindi No c'era anche un altro No perché è quello a terra Credo Ah Beh sì Finché non muore Esatto Occhio a non morire di zona Che sta chiudendo Ok Io mi sono fatto al volo Duecento di legna Uh lì c'è un airdrop però Io ho cinquanta Quindi non è che è andata così bene Vieni? Sì Magari c'è una cura No è autozone Eh non riesci a prenderlo? No Ti fai troppo male? Cosa? Ti fai troppo male? Sì ormai Anche perché ho otto di vita Ah è vero Che ti ho spesso malissimo Cioè Porca miseria E mi accascio Ma due curettine Eccoli Sono a nord Ho appena fatto una casettina Ok Ma c'è qualcuno che continua a cadere a terra? Come fa il lord Lord me A cadere a terra E tornare in vita costantemente? Non lo so Magari lo restano Magari Non lo so O avranno tantissime cure Cioè Forse hanno proprio luttato bene Quindi magari sono pieni di medici Non lo so Poi glielo andiamo a chiedere Sai che secondo me Lì c'è Nat In quella casupola Dici Io ho otto HP per fai dare Sento una paparella Ok vero qualcuno Aspetta 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 Avessi un fucilecchino Potremmo anche luttare Lato che corso Ascolta vieni un attimo Eh infatti Magari qualcosina Magari qualche benda Sai Sì Vediamo Allora Eh no È dal vuoto però Completamente Hanno già luttato E colpigli hai presi tu? No li ho presi io Ah ok No no non è luttato Infatti abbiamo Buone chance di trovare almeno le cure Pistola silenziata Non mi serve a nulla Oh io me la prendo Medikit Che fortuna Oh bello Ancora cinque vivi Come fanno? Non lo so Steph Te l'ho detto Sono morti Dopo glielo andiamo a chiedere Come l'ho fatta resistenza Siamo due contro uno E sono rimasti fuori zona Per un'eternità Non so come ci sono riusciti Evidentemente il cratere Guida Vai Aspetta è un po' buggato Perché non riesco a prenderlo Ok vai Ok hai capito dov'è? Sì Pronta? Vai Faccio rampe? Vai Moriremo? Vai Sì Via Ah Aspetta È a fianco a noi È a fianco a noi Dov'è? È qui dietro Mi ho buttato giusto Perché io avevo il carrello Ma dimmi te Dobbiamo sempre morire Con sto carrello Non vedo Dov'è? A fianco a te Ci sta Ci sta Che ansia E direi Poi ci ha assaltato Non so perché vogliamo fare le cose col carrello Ci ha assaltato veramente Che paura Ci siamo quasi riusciti Dai Secondo me l'incirca il 70% è stato fatto Perché probabilmente quelli nella tempesta hanno continuato Allora due zone dentro E forse ce la facevamo anche così pochi Ma facciamo in 20 e andiamo sul sicuro In ogni caso Qua sotto comparirei altri video Un botto di like Se volete averci fare altre follie del genere E ci fermiamo così Ciao ciao